Secondo appuntamento della nuova stagione per le squadre iblei impegnate ieri sia in campionato che in Coppa Italia. In realtà solamente il Marina di Ragusa ha iniziato la lunga e difficoltosa strada del nuovo campionato di Serie D. Per il resto delle iblei l'appuntamento di ieri è stato con il ritorno di Coppa Italia. Ma partiamo proprio dal campionato di Serie D, giunto già alla seconda giornata e che ha visto quest'anno in lista proprio la neopromossa Marina di Ragusa per lei dopo un debutto da incorniciare e con la prima vittoria di campionato ieri è stato il momento del boccone amaro contro il Corigliano che vince 2-1. I ragazzi di Mister Utro hanno infatti pagato a caro prezzo alcuni errori in fase difensiva registrati nella mezz'ora del primo tempo, un errore dopo l'altro e un gol dopo l'altro al ventesimo e al trentesimo minuto di gioco. Tolto questo iblei hanno giocato bene e tenuto bene il campo accorciando anche le distanze con un rigore trasformato in rete da parte di Mistretta al secondo tempo e sfiorando anche la rimonta costruendo anche tre palle gol. Ma il risultato finale si è bloccato sul 2-1 per i padroni di casa. Prossimo appuntamento per il Marina di Ragusa, domenica 15, questa volta in casa contro il Savoia. Per quanto riguarda invece gli impegni di Coppa Italia per le squadre di eccellenza e promozione, risultati e pronostici dell'andata confermati anche nelle partite di ritorno di ieri, ovvero in eccellenza il Ragusa dopo la sconfitta in andata contro il Santa Croce per 3-1 torna a perdere anche in casa 1-0. Gli ospiti erano forti, rodati e padroni del campo, anche avversario. Poco da fare per gli azzurri di Settineri se non capire le proprie lacune, ben evidenziate ieri dal Santa Croce che ha bloccato al Ragusa la strada verso la Coppa Italia. Alla fine tanta delusione, soprattutto tra i tifosi che non hanno bene digerito la sconfitta in casa. Il vicepresidente del Ragusa Calcio, Orazio Ursino, invece ribadisce quanto ci ha dichiarato all'andata, ovvero non ci sarebbe da preoccuparsi. Questi errori serviranno per far meglio in futuro. Non c'è da essere preoccupati per niente, ma queste partite servono solo per capire cosa manca. Teniamo conto che è una squadra neopromossa e che ha ancora tanto da fare all'interno del gruppo, quindi dobbiamo crescere e dobbiamo cercare di migliorarci. Solo riconferme anche in promozione il Modica torna a perdere contro l'Atletico Scicli, ma questa volta ai rigori e con la consapevolezza di aver giocato sicuramente bene. Passata in vantaggio e con diverse palle-gole sciupate, si è fatta poi rimontare al sedicesimo del secondo tempo, regalando la qualificazione all'Atletico Scicli con i tiri dal dischetto. Risultato finale quindi 1-1 nel tempo regolamentare, che si è trasformato in 5-4 dopo i rigori. Archiviata la Coppa Italia da domenica prossima, anche per i Tigrotti sarà campionato. Il Modica debutterà sabato prossimo alle 14.30 al centro sportivo Riccardo Garrone di Siracusa, dove sarà ospite. Mentre per l'Atletico Scicli sarà subito derby al Pietro Scollo contro il Frigintini. Frigintini che torna a perdere, sempre in Coppa Italia, contro la Virtus Ispica, questa volta con il risultato finale di 3-1. Mentre l'andata invece si era conclusa per 2-1, sempre a favore della Virtus Ispica, che torna a dimostrare la propria superiorità in campo. Sempre bene invece per il Commis, che con in tasca la vittoria sonante dell'andata a 5-1 contro lo Sporting Obea, torna a vincere 1-0 grazie a un rigore ben piazzato di Mascara. Domenica prossima invece prima di campionato, anche per i Verdi Aranci impegnati in trasferta in piazza Armerina. Infine il mio Pozzallo, sconfitto 4-2 dal Siracusa, che deve dire addio quest'anno alla Coppa Italia. Per lei ieri una partita che brucia, brucia perché l'avversario era addetta proprio del Pozzallo facilmente battibile, ma ogni situazione di gol è stata ampiamente sprecata. Grazie a tutti.